Musica Ciao a tutti ragazzi, qui è Teddy e benvenuti in un nuovo video Oggi parliamo degli Indiana Pacers Oggi pomeriggio parliamo degli Indiana Pacers perché Molti di voi mi hanno chiesto Parla degli Indiana Pacers Perché è arrivato Carlyle e vi ricordate che io vi ho detto Tranquilli che fanno silent trade per Kawhi Occhio, ripeto sempre occhio Però quali sono altre mosse che potrebbero fare i Pacers per E lo vedete di qua Lo vedete qua, cosa ho fatto nella prima trade Sono quattro eh Di cui una adesso ne parliamo perché Non so se avete sentito ieri Ma a quanto pare Brogdon più pick per Simmons Rifiutata in tronco Ecco, una delle trade che avevo preparato questa mattina Appunto mentre stavo preparando il video di Sacramento e il video di Indiana Riguardava proprio quella trade lì Porca puttana E Fila ha rifiutato Però io l'ho messa in modo diverso Cioè, era già originalmente diversa Quindi io non ho copiato Sono loro che hanno copiato me Lo streamer è sempre avanti, ricordatevelo Ehm, chissà magari per come l'ho messa io Potevano anche accettare Perché onestamente Brogdon è una pick per Simmons Cioè, è uno sputo in faccia Dai adesso Allora, parliamo di sputo in faccia Allora Trade a quattro Di cui vabbè, i Thunder come al solito si mettono in mezzo Sempre a fare i portapacchi Degli altri Allora Kyrie e CJ Merdollum vanno agli Indiana Pacers I Nets acquisiscono Goga Bitazze, Malcolm Brogdon e Yusuf Nurkic I Blazers prendono Lamb, Sabonis Due seconde e una seconda di Brooklyn E i Thunder ovviamente mandano O meglio, i Nets mandano DeAndre Jordan ai Thunder Per una pick al secondo giro Più una pick di Indiana Per facilitare il tutto Allora, qual è la questione dietro? Beh, sappiamo che Kyrie Probabilmente se ne va dai Nets Perché la dirigenza non è contenta del suo operato Durante la stagione regolare Saltava le partite Faceva l'ostetrico in casa Facendo partorire la moglie Nella vasca da bagno e quant'altro Quindi sempre più fuori dal campo E sempre meno in campo E allora potrebbero anche dire Va bene, ok, lo muoviamo Però il valore di Kyrie è sempre comunque più alto di Brogdon Allora Brogdon e Bitazze Come giocatorino Per abbassare anche il monte in gaggi dei Pacers Visto che appunto prendono anche Menchiollum E però come giocatore futuribilino Per i Nets Ecco, quindi al posto della pick Bitazze per scendere anche con i contratti I Blazers muovono McCollum per Sabonis Ora, le due scelte al secondo giro Sono per prendersi Lamb Anche per pareggiare salarialmente Però Indiana dice Senti, guarda Ti devo mandare Lamb Perché io salarialmente Se no non ci sto dentro Prenditi queste due seconde E... Vattene a fanculo Ecco, sostanzialmente Quindi, siccome arriva Sabonis Nurkic viene dirottato ai Nets E attenzione perché Brogdon Arden Harris Durant Nurkic Non mi pare un quintetto brutto Considerando il Durant Visto Negli scorsi playoff I Blazers Secondo me fanno un upgrade Perché liberano il duo McCollum Lillard E finalmente danno un lungo Come la Marcus Il crotalo dell'Oregon Aldridge Chiaro Sabonis può lacciargli le scarpe Ad Aldridge Però Ehm Finalmente un lungo con Lillard Finalmente un lungo serio con Lillard Ehm Bello schillato Sabonis Veramente bello schillato Sarebbe una bella coppia Con Billups Lillard Sabonis Secondo me Si liberano Del triennale Mastodontico Di McCollum Prendono un triennale Molto più Confortevole In Sabonis Ecco E chiaramente Indiana In questo momento Va semi all in Sarebbe Kyrie McCollum Lever TJ Warren E Miles Turner Che Sulla carta Non è neanche Un bruttissimo Quintetto Ora Puoi battere Fila Puoi battere Nez Puoi battere Beh Puoi battere Nez Uno glielo prendiamo Ehm Si Diciamo che è tosta Ecco Però c'è anche La free agency Quindi magari Sai Qualche giocatore Può Può venire da te Chiaramente Potevo mettere Lillard Ehm Insomma Lillard A Indiana A parte che In una trade dopo Lillard Però Secondo me In questo caso Allora Levert Non l'ho mosso mai Per evitare La situazione Nesea Thomas Boston Quindi Levert Dopo che è stato Tutto l'anno Con Indiana Per la questione Del rene E lo scambiano Bruciano La città Ok Proprio la bruciano Bruciano anche I giocatori Dentro il campo Bruciano lo stadio Ecco Oltre che la città Quindi E' meglio evitare Di scambiare Un giocatore Infortunato Tutto l'anno Come Nesea Thomas A Boston Appunto Quando Angel Lo scambiò Per Kyrie A tradimento Che il padre Appunto Di Anthony Davis Ad esempio Disse No no Mio figlio Se Indiana Scambia Levert O prende Durant O Proprio Finisce malissimo Ecco Quindi Kyrie E McCollum Levert Warren Turner Quindi anche qua Siamo col 4 fuori Uno dentro Certo Difendo io Però vabbè Tanto oramai Tanto non si difende più Quindi che problema c'è Se non In NBA Non si difende più Domanda Se in NBA Non si difende più Perché ogni volta che guardiamo un quintetto Diciamo E chi difende Tanto non si difende Quindi Tanto non si difende Quindi ok Tanto non si difende Quindi va benissimo Questo quintetto Segniamo 160 punti a partita Tanto in NBA Chi segna di più vince Beh è così in realtà In tutti gli sport più o meno Nurkic Brogdon Attenzione ai Nets Perché secondo me fanno Decisamente più paura Senza Kyrie Ma con Nurkic Che appunto arriva A dare fisicità Visione di gioia Gioco Presenza nel pitturato È vero Non finisce Non finisce Le partite Perché finisce Durente da 5 Però Se ti serve Un qualcuno di grosso Da mettere contro Un lungo avversario Che magari ti sta dando problemi A rimbalzo e quant'altro Nurkic Ha 26 anni per di più Quindi lo puoi anche rifirmare Tra l'altro Ha un anno Come Durente Come Arden Perché sono entrambi All'ultimo di contratto Con la player option Quindi Potresti rifirmare Tecnicamente Tutti e tre L'anno prossimo I soldi li avresti Perché hai diritti Bird su tutti e tre Brogdon Ha due anni Quindi Se l'esperimento Brogdon Arden Non funziona Brogdon Lo puoi scambiare L'anno prossimo Che è un annuale Stanzialmente Quindi un annuale Lo puoi muovere Dove vuoi I Blazers Ripartono da Lillard Sabonis Che secondo me È decisamente meglio Di Lillard McCollum Ma sotto ogni punto di vista E risparmiano pure Un fracco di soldi I Thunder Come al solito Per le pick E Indiana Beh Kyrie McCollum È un doppione Di Lillard McCollum Sì È un doppione Di Lillard McCollum Però con Carlisle Chi lo sa Magari Cambia qualcosa Oh la Oh la la Oh finalmente Una trade Che ha senso Per Indiana Era ora Beh Allora Che dire Immaginatevi Jimmy Butler Che fa sign and trade O meglio sign and trade Viene scambiato Per TJ Warren Cioè Dopo la bolla Immaginate Ecco Beh ovviamente Questo è il sign and trade Per Kauai E qua Famo sul serio Ovvero Vanno via tutti Tranne Le Ver E attenzione Qualcuno mi dice Sì ma chi porta Palla Indiana Io No porta palla Jimmy Butler Perché Jimmy Butler Era un playmaker Oramai Nella NBA Odierna Non prendiamoci in giro Jimmy è un playmaker Oramai Lui che porta la palla E allora sarebbe Butler Le Ver Kauai Turner X Poi c'è la free agency Sarà McDermott Sarà Qualcuno dalla free agency Sarà qualcuno dalla free agency Però Insomma Butler Kauai Turner In difesa Con Carlisle Che nel 2011 Ha messo Le tenaglie Alle brownway De Bosch Insomma Carlisle Penso sappia Come si difenda Anche se Dallas Faceva schifo a difendere Però io credo che Carlisle Tornando indiana Cioè tornando un po' Nel passato Visto che la allenava Metà anni 2000 Insomma Kauai Butler Turner In difesa Io Su Carlisle Leurino Sulla difesa Ce lo punto Sempre Proprio fiducia cieca Su Carlisle E allora Miami Riparte Perché vanno Vabbè Beverly Sempre per abbassare Il Sempre Sapete oramai No Quindi Lamb Warren La pick Di quest'anno 13 Una pick Protetta 2023 In top 5 Che è quando Appunto Scade Butler Ovviamente Con Kauai E Turner E Le Ver Difficilmente Indiana Entra nelle prime 5 Quindi quella Potrebbe essere Una scelta 6 Al massimo Altrimenti se la tiene Indiana Per qualche strano motivo E due scelte Al secondo giro Anche qua Perché due scelte Al secondo giro Perché vogliamo Favorire lo scambio Vogliamo Favorire Butler A Indiana Vogliamo prenderlo A tutti i costi Sulla falsa riga Di questo Arriva il Sun and Trade Per Kauai Leonard E qualcuno potrebbe dirmi Sì ma Miami Prende Warren E Lamb I Clippers Prendono Brogdon E Sabonis E' un po' Sbilanciata Miami Vorrebbe almeno Uno dei due Eh Aspetta però Butler E' in scadenza Ok E gli dai la Pick 13 Ok Quindi Dandogli la Pick 13 Miami Ha già Un contentino Nel dar via Butler Poi gli dai Due scadenze Per di più TJ Warren Se dovesse giocare Come stava giocando Fino alla bolla Ovvero stava facendo Il fenomeno E va Miami In una squadra Che tanka E va a mettere 23 24 25 Di media Poi con quel Contratto lì Che è veramente Basso E poi lo scambiano La 3 deadline E se Warren viaggia 25 Di media Le richieste Possono essere anche Allettanti Per Miami In più Gli dai anche Una scelta 2023 Che sicuramente La prende Miami Perché sicuramente La prende Miami Poi dipende Se Butler Rifirma E allora Indiana è altina E diventa una scelta 20 22 23 E allora ok Va bene Però se Indiana Se Butler Dovesse andare via E quella picca Allora può diventare Decisamente Più bassa Verso la 15 16 14 E allora Insomma Secondo me Insomma Se Miami Vuole iniziare Il progetto Di tanking Scambiare Butler Come ho detto È la prima cosa Qui prenderebbe Due pick sicure Warren Lamb E Beverly Tutti in scadenza Tante pick Al draft Ripeto Poi Warren Lo scambia La deadline Lamb Può anche Tenerlo Ma Warren Lo può scambiare Anche Lamb Lo può scambiare Per una scelta A secondo giro Cioè Nel senso La domanda è Quanto vale Un Butler In scadenza Che ha giocato Così male Come l'anno scorso In particolar modo Ai playoff Ecco Ovviamente Per Kawhi Leonard Devi alzare il tiro Perché quello è Kawhi Leonard Cioè A parte che è un sign and trade Quindi devi convincere I Clippers Per fare sign and trade Mentre invece Butler Ha il contratto Quindi non c'è bisogno Di convincere Butler Però Se prendi Butler Kawhi potrebbe dire Beh sai che quasi quasi Un sign and trade A indiana Potete farmelo Ecco Ovviamente i Clippers Vogliono indietro materiale Per questioni salariali Per forza di cose Sabonis e Brock Altrimenti sto sign and trade Non si può fa Perché appunto Pareggiano i salari Di Kawhi Anche qui Picca il secondo giro Ma stavolta Abbiamo la 2025 Secca Che sarebbe Il post Kawhi Leonard Quindi quella pick Va diretta A Miami Indipendentemente Da quello che fa Kawhi Mentre la 2027 Protetta top 3 Quindi Miami potrebbe Prendere una scelta 4 nel 2027 E magari Miami si è già Rilanciata E scegliere Una 4 In un draft 2027 Dove sei già Competitivo Insomma Apri parecchi Scenari Quindi Chiaramente Questa è fatta Per rendere Insta Contender Fila E secondo me Turner Leonard E Butler Porca miseria Con Carlisle In panchina Tengono anche Le Ver In tutto questo Io ho messo Ibaka Che va insieme A Kawhi Uscirebbe Dalla panchina Cioè Nel senso Ruotare Turner Ibaka Se Ibaka Però è sano Non un cadavere Come quest'anno Che addirittura È stato operato Alla schiena Anche qua Secondo me Ci sono le opportunità Di intravedere Una squadra Che va a competere I Clippers Ripartirebbero Alla grande Onestamente Perché Perdi Kawhi Ma prendi Brogdon E Sabonis È il tuo sogno Bagnato Perché i Clippers Non hanno Pick per Tencare Però Con Sabonis Brogdon E Paul George Visto i playoff Può essere Una squadra Che ti può Andare avanti Nei playoff Cioè Poi Dipende Come si incastrano I pezzi Però Voglio dire Insomma George Brogdon Sabonis Sulla carta Non è un brutto Terzetto Poi non sarà Sicuramente George Leonard Per carità Però seppur di perdere Kawhi a zero Secondo me Sabonis Brogdon E Paul George Non è male In più Le pick Che tu prendi Le puoi anche Girare volendo Per altri Magari prendi Morris Se due pick E tiri fuori Qualcosa di meglio Prendi Kennard Prendi Zubac Due pick E tiri fuori Qualcosa di meglio Insomma Anche i creepers Secondo me Ci escono bene Miami Non so quanto Può pretendere Per Butler Onestamente parlando Già comunque Prende due pick Al primo giro In tutto questo Di cui Una è la numero 13 Quindi già in lotteria Che Comunque Secondo me È già buono Per un giocatore In scadenza Che ha giocato male Come Butler Insomma Miami Tancherebbe Tutti i contratti In scadenza I creepers Secondo me Ottengono benissimo E i pacers Farebbero paura Che insomma Butler Leonard Nella stessa squadra Con Carlali In panchina Turner Lever Secondo me Il talento C'è Poi bisogna Completare la squadra E quello È un problema Allora 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 Scusate Tipo Larrotino Ma Dovevo farlo What the fuck Is this Come on man What the fuck Are you doing You little bitch Lo so che mi chiamate Little bitch Quando guardate i miei video Lo so Allora Che cazzo Cos'è sta cosa Allora Cos'è sta cosa Hayward Lillard Covington A indiana Like what Warren Rosier Brogdon Bitazze Scelta al secondo giro Scelta 11 Degli Ornets 3 pick al primo giro E pick 27 Protetta Quindi voi non vedete le pick sotto Ma sono le 3 al primo giro D'Indiana 21 23 25 Non protette La 27 Protetta top 3 Che la vedete Poi La scelta degli Ornets Che andrebbe ai Pacers Ma la girano a Indiana Scusate Che la La girano dai Pacers A Portland Quindi Portland avrebbe Per Lillard E Covington Riceverebbe Brogdon Bitazze Warren La 11 La 13 Scelta al secondo giro 3 scelte al primo giro Garantite Quindi 4 pick 5 pick al primo giro Garantite Più una protetta 2000 Top 3 Nel 2027 Warren in scadenza Rosier in scadenza Brogdon A fianco a McCollum E Bitazze Per il post Nurkic Ok Direi che Per Lillard Può andare bene Ora Perché Award Va a Indiana Perché Award È di Indiana Porca miseria Lui è nato Nello stato dell'Indiana Tornerebbe a casa E già voleva tornare a casa Ma Boston chiedeva Turner e Warren Per fare silent trading Insomma Gli ha riso in faccia Al povero Age Ecco Però stavolta Tornerebbe a casa E Charlotte Chi prende? Sabonis Quindi Sabonis E Lamb Per Award La pick Di Charlotte Andrebbe a Indiana Ma Indiana La gira a Portland Per prendere Lillard Perché Charlotte Dovrebbe mandarla 11 a Indiana Beh perché Il contratto di Award È un 30 milioni Per 3 anni garantito Sono 90 milioni ancora Mentre Sabonis Prende Decisamente di meno Ed è più futuribile E andrebbe una squadra Più giovane In questo caso E quindi Indiana si presenterebbe Con Lillard Lever Covington Turner Eward Ripeto in ordine Meglio Lillard Lever Eward Covington Turner Quindi abbiamo Ossatura Offensiva Lillard Lever Ossatura Difensiva Covington Turner Eward Con Lillard E Lever Che possono portare Palla Con un Carlisle Che magari Non mette tutti A guardare Come faceva Con Donjic Ma gioca La vecchia Pallacanestro Sua Che è molto Bella Eward Covington Lillard Lever Turner Per me è un quintetto Decisamente buono Per essere Competitivo Nella Easter Competitivo Non che vanno a vincere Competitivo Poi ovviamente Mancano sempre I La free agency Quindi Insomma Se hai Lillard Lever Eward Covington Turner Secondo me Qualcuno viene a giocare Tra l'altro avresti La tua star Che è Lillard Indiscussa Quindi sai a chi va la palla Punto E poi hai una squadra Però Per me è ben amalgamata Hai tutti i pezzi Ben assemblati E Se fai una free agency Accurata Secondo me Ci vai bene E' chiaro che Ovviamente per Lillard Va via il futuro Ma Nel senso Lillard ha 4 anni garantiti E il futuro deve per forza Andare via Cioè cosa fai Guardi Ecco E quindi E quindi Ehm Voi cosa fareste? Perché è vero Eward è quello che abbassa La trade Lo so Però Eward è dello stato dell'indiana E Secondo me Lillard vuole qualcuno Di Comunque Vissuto a fianco a lui Certo Prefererebbe magari una superstar Però secondo me Eward è un giocatore che Ehm Sa fare tutto Porta palla Segna Può anche difendere Cioè Quindi ecco Secondo me Non servono sempre Due Tre superstar Per me Lillard è capace Di vincere da solo Letteralmente da solo Però deve avere una squadra Dietro che lo supporti E secondo me Questa squadra Lo supporta bene Gli toglie pressione in attacco Gli toglie pressione in difesa Ha un grande allenatore La panchina ovviamente È da fare Ma secondo me Gente che vuole giocare con lui La trova Dalla free agency Ovviamente Portland Meglio di così Non può ripartire Cioè a meno che Non prende qualche fenomeno Incredibile Ma nel senso Warren in scadenza Che può scambiare La 3 deadline Rosier Che può scambiare la deadline Brogdon Che può scambiare Bitazze Che si può tenere Se non vuole rifirmare Nurkic 4-5 picca Al primo giro Di cui 2 di quest'anno Quindi già riparte Da quest'anno Portland Con la 11 Con la 13 È vero Non propriamente La 2 La 3 Però la 11 La 13 Secondo me Sono un bel contentino Se Lillard va via Più tutte le pic future Charlotte Charlotte Secondo me Fa quello che deve fare Cioè Libera Eward Che secondo me È chiaramente fuori posto In quella squadra Prende Sabonis Quindi risolve Il problema lungo E Abbassa pure Il monte Il monte Ingaggi Di parecchio Come vedete Lamb va lì Per liberare Spazio Indiana Se no Indiana Assorbiva troppi soldi E non si poteva fare E Derrick Jones Appunto Perché Portland Prende troppi contratti E quindi Uno va A Charlotte Tra l'altro Derrick Jones Può fare anche Il centro di riserva Volendo Ha giocato centro A Miami Tante volte Può farlo anche A Charlotte Quindi Charlotte Può Appunto Usarlo come Centro di riserva Se vuole Chiaro Il punto di domanda Di questa trade È Eward Sono d'accordo con voi Avrei potuto mettere Ben altro Però Secondo me Ho voluto dare un taglio Molto più ordinato A questa trade Cioè di fare un quintetto Dove Lillard Finalmente Ha Un Una squadra Con dei dettami Ben definiti E dove Un allenatore Come Carlisle Può perfettamente Posizionare in campo Hai chi difende Hai chi segna con te Dipende dalla panchina Ovviamente Però dalla panchina Potresti tirar fuori I fratelli Holiday Potresti rifirmare McConnell O Poi magari Qualche free agent buono Arriva Nel senso Un Iguodala Un Dragic Un Magari un Danny Green Che magari Si ricorda come si tira Nel senso Poi Quella squadra Inizia ad essere interessante Quindi Non so Non mi dispiace così tanto Questa 3 Devo essere onesto Non mi dispiace così Can you hear the sound We're the revolution We're the revolution We're the revolution We're the problem We're the revolution We're the revolution Grazie a tutti.